Non mi stai qua, io ti vorrei vedere morta, squartate, nulla che ti sa. Ma perché non schiatti qua adesso? Ti vengono l'impatto, tanto l'età ce l'hai. Tra le notizie dell'ultimo momento, uno spiacevole fatto avvenuto nel Branzolo. Giovanna Pisacchi ha ucciso a colpire Ascia il suo collega Fulvio Persicchi. Tra tre giorni vi dirò chi di voi due resterà a lavorare in azienda. Credeteci, mi amo, sono bello.